Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una lente di ingrandimento da ispezione. È un oculare e serve per osservare orologi, gemme, punzoni, anelli per ispezioni micromeccanica. È una lente di qualità. Di buon diametro e l'ingrandimento è un 8x. Stiamo parlando di una lente in vetro. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un nostro prossimo video. Grazie. 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 Grazie.